Torna sabato 25 giugno in via Marco Peregno ad Arezzo Orange Night, organizzato da tutte le associazioni di categoria che si sono unite per l'occasione. Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio e CNA per dare alla città una notte di shopping, divertimento e tanti spettacoli. Si inizia alle 18. Anche quest'anno si ripete la festa, è stato un grande successo l'anno scorso, contiamo che sia di nuovo così anche quest'anno. Ci saranno un sacco di attrattive, cose interessanti, la solita sfilata e una grande collaborazione da parte di tutte le attività nel riuscire, quindi speriamo che vada bene. Questa è una strada importante di accesso alla città, noi è ormai il quarto anno che collaboriamo per la riuscita della festa, quindi siamo contenti che sicuramente quest'anno ci sono tante novità e tante attrazioni interessanti. È una strada da vivere e da visitare, quindi vi aspettiamo il 25. Io vedo sempre molto positivamente questo tipo di eventi di strada, poi hanno un gran successo di pubblico, quindi solo quella è la dimostrazione che funzionano. Poi quando le associazioni si mettono insieme per me è ancora più positivo, perché io sono dell'idea che dobbiamo stringere i denti e fare squadra, quindi a maggior ragione questo fine settimana veniamo tutti in via Marco Perennio. Sicuramente quando siamo tutti insieme c'è un bel mix di competenze e di qualità, poi c'è in questa strada la passione dei commercianti che è l'elemento vincente, quindi invitiamo tutte le persone a venire perché con la passione dei commercianti, la qualità dei loro prodotti, la qualità del loro servizio vi faranno passare una bellissima serata. Qui è una festa che prende tutte le quattro associazioni, che è una cosa importantissima perché la squadra tutti insieme fa forza e noi commercianti abbiamo voluto questo perché la strada fa parte di varie associazioni, perché siamo associati a diverse associazioni, è giusto che siamo tutti insieme e oltretutto la qualità è molto alta perché quando ci si sforza in questo modo viene una bella cosa, vi aspettiamo.